La pizza è fatta con questa... La pizza è fatta con la pizza e la pizza è fatta con la pizza. La pizza è fatta con la pizza. La pizza è fatta con la pizza. 10 secondi andiamo fuori 10 secondi andiamo fuori 10 secondi andiamo fuori Gli ingredienti sono panna La Valtartano, mucche, laghetto, rosettine, montagna di 2100 metri La Valtartano, che sarebbe il paese dove arrivo Valtartano E l'ho voluto Valtartano Perché è una valle, una valle alpina a 1000 metri La vostra qua di Peccona Non preoccupare, guarda, no, ma dal lato lascio Spicchio un pochino e dal lato... Che fanno le presentazioni quando fanno i piatti Da? Devi tempo Carpaccio Può essere tagliata più o meno sottile Se è più sottile viene usata proprio il carpaccio Mentre viene usata come più... E' un po' è più sottile E' un po' è più sottile Bravo, Olga! Bravo, Olga! Una riuscola, eh? Vai, dai, mi passate! Ai Olga! Dò... Dò... Dò c***o Dò di principi da Roma Dò, dò... Poi i comodorini e un po' di scacchino. Ok, vediamo anche una coreografia. Allora, è lei, è stata lei? Mi chiamo Barbara Fabene, vengo da Montefiascone, provincia di Viderbo. La pizza l'ho chiamata Matteo per mio figlio. Sì, no, va bene così, va bene. Ciao. Io sono un'azienda, vengo da Razzanino. Come è soccorso? Soccorso. Soccorso. Mi chiamo. Poi i comodorini sono in Canada e sono quelli qui per imparare l'arte della vita. Sì, sono qui. Vai, tutti insieme, tutti. Scusate, professori. Maestri, maestri, questa è fatta a molte mani o... Non l'avevo vista mai, fatta in questa maniera. Non l'avevo vista mai, fatta in questa maniera. No, non l'avevo vista mai. Non l'avevo vista mai, fatta in questa maniera. Non l'avevo vista mai, fatta in questa maniera. Grazie.